Andrea non vede il primo strato però tutti gli altri quelli che contano li vede benissimo io volevano questa meravigliosa voce portare il rapporto alla natura che era la sua terra perché lui è nato qui questa foto questo lavoro è diverso perché è un lavoro per un album che ha un titolo importante ed è stato importante l'idea di tornare a scattare Andrea qui nella sua terra in cui Andrea assume una dimensione ancora più bella più piena e più vera ho visto Andrea fare delle cose prendere delle decisioni cambiare delle vite che mi ha portato a un certo punto a soffermarmi e quando le persone mi chiedono com'è Andrea Bocelli io gli rispondo ah è anche un bravo cantante è una persona che ti lascia il segno è una persona che che ti costringe a essere la tua versione migliore quest'album ha un profondo significato soprattutto in questo momento storico ma penso che il credere identifichi l'identità di una persona questo album per noi tutti che lavoriamo attorno ad Andrea non è un gesto di professionalità ma è un gesto di responsabilità ogni foto con Andrea dentro è una foto molto importante perché lui esprime moltissimo l'Italia ma in questo momento esprime anche proprio un desiderio di credere in qualcosa e per farlo riparte da casa l'Italia ma dovresti